I miei timori purtroppo erano più che fondati dal governo. Sono arrivate le risposte che non il sottoscritto, ma la città dell'Aquila, attende pazientemente, sin dal mese di dicembre. Così il sindaco dimissionario Pierluigi Biondi, in una nota, confidavo che il Consiglio dei Ministri, nonostante non fosse all'ordine del giorno della seduta di ieri, approvasse fuori sacco il cosiddetto decreto Etna contenente misure tra cui lo stanziamento di 10 milioni per il riequilibrio del bilancio comunale dell'Aquila a favore delle aree interne terne motate d'Abruzzo, Centro Italia, Sicilia e Isola di Ischia. O nel decreto verrà inserita una previsione per il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio comunale, oppure ribadisco che sarà un commissario prefettizio ad approvare lo strumento di programmazione finanziaria che genererà l'aumento di imposte e tributi per cittadini, famiglie e imprese per negligenze non attribuibili alla politica locale, conclude il sindaco ribadendo quindi la sua volontà di dimettersi.